Ben trovati a Non Solo Radio con Patrizia Simonetti, settimanale di cinema, teatro, musica ed eventi a Roma, una collaborazione tra Radio Antenna 1 e Spettacolomania.it. Nella suggestiva e surreale nuvola di Fuxas, in una serata di gala ricca di ospiti, tra proiezioni e banchetti a buffet, sono stati presentati i palinsesti Rai della prossima stagione. Tra le novità delle varie reti, presentate dai rispettivi direttori, Fabio Fazio che trasloca da Rai 3 a Rai 1 la domenica e il lunedì, un one-woman show di Fiorella Mannoia e un programma con Bebe Vio dal titolo La vita è una figata. E poi Renzo Arbore che torna su Rai Storia con una quarta puntata dedicata a Mariangela Melato, ma anche su Rai 2 con una rivisitazione del suo storico programma Indietro Tutta. E Millie Carlucci che, oltre a Ballando con le stelle, condurrà su Rai 1 due serate dedicate alla musica. Eccoli ai nostri microfoni. Sarà un regalo natalizio che Rai 2 vuole fare Indietro Tutta perché si sono accorti che Indietro Tutta non ha tempo, che è l'umorismo di perché io ho fatto i programmi a lunga durata, non ho fatto l'attualità. Quindi Indietro Tutta, a rivederla oggi, fa ridere uguale come si rideva allora, tale e qua. Tant'è vero che Frassica fa, quell'umorismo usa ed è il più grande. Era ora. Ci sarà anche un grande speciale dal Colosseo con Bocelli e i suoi amici internazionali, grandi cantanti della lirica, del pop e grandi star in generale. Quindi una di quelle serate che Rai 1 ha sempre fatto e deve fare proprio perché è un grande marchio, quello di Rai 1. E queste sono cose che solo la nostra rete può fare. Farai qualcosa anche su Elton John? Beh, adesso vediamo, insomma, Elton John sarà appunto uno degli ospiti, quindi vediamo che cosa succede. Nel frattempo in autunno parte il tour di Ballando, on the road, quello dal vivo, quindi insomma dai, tante cose da mettere insieme. Adesso dobbiamo fare delle foto, però prima devo fare un saluto a Radio Antenna 1. Va bene, ciao a tutti, grazie da Renzo Arbore. Ciao amici di Radio Antenna 1, un bacio affettuoso da Emili Carlucci. Si è conclusa l'inaugurale parentesi romana di Renato Zero, applaudito l'1, il 2, il 4, il 5 e il 6 luglio, al centrale live del Foro Italico, sul quale l'artista romano, che ora parte in tour, ha presentato Zerowski solo per amore, uno spettacolo molto particolare e nuovo, fatto di recitazione e canzoni, quelle del suo ultimo monimo album. Questo masso di ferraglia è la tua casa, queste facce intercambiabili sono la tua famiglia. Tu avrai la facoltà di cambiare ogni cosa, intorno e dentro te, ma ricorda che a la fine è l'amore che ci cambia. Per i concerti della settimana vi segnaliamo U2 e Noel Gallagher's High Flying Birds, sabato 15 e domenica 16 luglio allo Stadio Olimpico. Giovedì 13 luglio, Baustel a Villa da Roma incontra il mondo, Massimo di Cataldo al Gay Village e NEC all'Auditorium Parco della Musica, per Luglio Suona Bene, dove sabato 15 arriva Francesco Gabbani, quando Clementino è a porta di Roma. Presentata la nuova stagione del Teatro Brancaccio, che aprirà il 12 ottobre con Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, in scena Gianluca Guidi che ne cura anche la nuova regia. Tra gli altri nomi che spiccano in cartellone, Giampiero Ingrassia, Elio, Virginia Raffaele, Angela Finocchiaro, Neri Marcoreggio, Giorgio Montanini. Ma la star è e sarà Lorella Cuccarini, che dopo una tournée estiva con Non mi hai più detto ti amo, a fianco del già citato Ingrassia, tornerà al Brancaccio con La Regina di Ghiaccio, in versione rivisitata con la regia di Maurizio Colombi e 20 ballerini in scena. Vediamo l'ora perché insomma abbiamo avuto un assaggio con La Regina di Ghiaccio, questa primavera qui al Teatro Brancaccio. È stato un bellissimo, grandissimo successo, sia di pubblico che di critica, però adesso arriva il pezzo forte, nel senso che cominciamo una grande tournée e qui a Brancaccio, dove tutto è cominciato, faremo la parte centrale della stagione perché saremo qui per tutto il periodo delle feste di Natale, Capodanno compreso, quindi insomma non vediamo l'ora. Senti, come ti trovi in questo personaggio? Come ti sei trovata? Ma guarda, benissimo, dopo la cattiva di Rapunzel, questa è sicuramente una donna malefica ma molto più complessa. naturalmente insomma la storia, il libretto è un libretto che aveva anche il suo grande peso specifico, insomma perché comunque ci siamo anche se liberamente ispirati alla Turandotte che è stata poi l'opera di Puccini, per cui era una grande scommessa che devo dire è stata assolutamente vinta perché siamo riusciti a trasformare quest'opera in un musical molto popolare che è piaciuto moltissimo ai bambini ma che rispetto a Rapunzel secondo me è anche tanto tanto adatto agli adulti perché insomma è veramente uno spettacolo per tutti. A tutti voi di Radio Antenna 1, una buonissima estate da Lorela Cuccarini. Ciao! Per le sere d'arte di Castel Sant'Angelo, giovedì 13 luglio Luigi Locascio nell'ultimo viaggio di Ulisse, tratto dal poema di Giovanni Pascoli. Sempre giovedì 13 Antonello Costa è alle terrazze del Palazzo dei Congressi dove venerdì 14 arriva Francesca Reggiani e sabato 15 Antonio Giuliani. Da domenica 9 luglio e fino al 26 al Teatro Vascello fuori programma Festival di Danza Contemporanea. Ed è tutto per oggi, alla prossima settimana!